Scusi signore, è salora? Ma certo, sono le 7 e non ho 10. Grazie. Oh, si immagini. Si immagini cosa? Ma chi sta parlando? Io. No, i vantaggi! Ehi, io non sono un fantasma. Lui piuttosto è scappato con gli occhi fuori dalle orbite. Tra poco sarai tutta via. Oh, no. Ah, sì! Ehi, io non sono un fantasma.